carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato all'approfondimento dell'immortale catechismo di san pio decimo questa se non ricordo male verifico al volo dovrebbe essere sì la sesta puntata e questa sera andremo ad occuparci di un tema che già è oggetto molto approfondito di un altro ciclo di catechesi il tema di questa sera sarà appunto il peccato originale la volta scorsa abbiamo visto che nel catechismo siamo stati occupati stiamo nella sezione dedicata alla creazione e quindi la creazione degli spiriti quindi spiriti puri gli angeli da cui si distinguono gli esseri umani e poi demoni abbiamo appunto concluso seguendo il catechismo nella distinzione che fa tra i puri spiriti quindi tra gli angeli e gli uomini che sono certamente esseri intelligenti ma dotati anche di corpo quindi di materia ora ci restano per concludere questa sessione i numeri dal 66 al 75 che sono appunto tutti quanti dedicati a quella che si chiama tecnicamente in teologia la protologia quindi il discorso sulla creazione sulla condizione dell'uomo prima del peccato originale e poi la caduta il peccato originale che è un punto fondamentale della dottrina cattolica uno veramente dei pilastri la cui ecco diciamo così retta comprensione oggettiva quindi dal punto di vista di ciò che il peccato originale certamente è poi sappiamo che nell'altro ciclo di catechesi stiamo affrontando l'intentativo di scoprire a livello di ipotesi ovviamente in che cosa sia consistito però il fatto e il contenuto diciamo così dogmatico dottrinale del peccato originale è un caposaldo della dottrina cattolica non si può prescindere da questo da questo aspetto perché se non c'è stato il peccato originale se l'umanità quindi non è decaduta l'opera di redenzione di cristo è completamente inutile e vorrei subito contestualizzare tenendo presente che tra le tante cose che in questo tempo di morta fede ed impietà trionfante ma sarebbe meglio definirlo proprio di apostasia dalla fede nel senso che anche noi stessi cattolici ormai abbiamo proprio smarrito le coordinate essenziali e da questo smarrimento pare non essere paio non essere senti anche ahimè alcuni pastori che pare sempre speriamo sempre che siano apparenze ma c'è poco da sperare insomma che sembra che non insegnino più la sana dottrina cattolica ma altro insomma il peccato originale è un fatto fondamentalissimo ripeto senza il quale non si può comprendere nulla di ciò che è proprio la quintessenza della della nostra santa fede divina e cattolica perché che il nostro signore gesù cristo si sia incarnato si sarebbe incarnato anche se non ci fosse stato il peccato è opinione più che probabile la pensano in molti la penso anch'io ma di fatto si è incarnato come diciamo come diremo poi nel credo per noi uomini e per la nostra salvezza e se si è incarnato per morire in croce per patire per soffrire per i nostri peccati se il peccato non c'è quindi cristo fatto semplicemente una follia andare a morire in croce quindi una cosa completamente stolta oltre che inutile allora diamo a leggere il catechismo dopo queste brevi parole introduttive a partire dal numero 66 chi furono i primi uomini i primi uomini furono Adamo ed Eva creati immediatamente da dio tutti gli altri discendono da essi che perciò sono chiamati i progenitori degli uomini ora cosa dire su questo numero amici miei cari anche se siamo arrivati nel 2022 che dio abbia creato Adamo dal dal fango quindi plasmando il fango e infondendogli lo spirito e che abbia tratto Eva dalla costola di Adamo cioè da lui continuano ad essere verità di fede avremo modo di approfondire nell'altro ciclo di catechesi anche come gesù spiega che smonta la teoria dell'evoluzione Pio XII stesso ritornò su questo punto perché le dottrine del secolo scorso hanno cominciato a mitizzare quindi a ridurre il racconto sul peccato originale ad una ad una favoletta favoletta nel senso che come le favole qual è il senso è un racconto inventato che avrebbe una morale quindi deve avere il compito secondo questi signori di giustificare la presenza del mare nel mondo attraverso quindi un racconto assiologico parenetico quindi a sfondo morale Pio XII stesso ha detto fermi tutti fermi tutti per quanto ci siano certamente dei passaggi nei libri della Genesi da intendere in maniera simbolica quindi la favoletta del pomo l'abbiamo visto nella catechesi nel discorso quella sì che è una favoletta ma non ci sta scritto nel libro della Genesi che aveva mangiato la mila certo si parla del frutto proibito ma è evidente che dietro l'albero l'immagine del c'è c'è qualche cosa che va al di là no sarebbe una stupidaggine insomma che 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 crea dentro il palicio terrestre un albero e in quell'albero dice questo non si mangia perché cioè è chiaro che c'era qualche cosa di ed è questo appunto il fascino di cercare di andarlo a decodificare però che i due primi fossero due esseri umani sono realmente i capostipiti del genere umano che hanno commesso un peccato ben preciso ha iniziato Eva e ha completato Adamo e questo peccato ha condizionato degradandola in peggio tutto il genere umano e si trasmette per generazione questo non si discute chi lo mette in dubbio può accampare anche tutte quante le pretese e le motivazioni della vera o pseudoscienza decidetelo voi sta fuori della comunione con la chiesa la chiesa cattolica non è questo questo sia ben chiaro altro aspetto numero 67 che anche questo è un'altra contraddizione della teoria dell'evoluzione l'uomo fu creato debole misero come era siamo noi l'uomo non fu creato debole misero come era siamo noi ma in uno stato felice con destino e doni superiori alla natura umana questo è un altro concetto chiarissimo che appare nel racconto della creazione anche il numero dei sette giorni ciò che dio ha creato è qualche cosa di perfettissimo sotto tutti i punti di vista cioè dal sia la luce alla creazione dell'uomo ciò che esce dalle mani di dio non solo che è perfetto ma è perfettissimo e quindi il principio della corruzione dell'imperfezione non sta di certo nell'opera di dio che dio non fa cose di questo genere ma sta nel fatto che di nuovo l'uomo peccando quindi introducendo il male ha degradato se stesso e anche causato tema ripreso da san paolo stesso nelle sue lettere una decadenza verso il peggio dello stesso creato su cui il peccato dell'uomo ha in qualche modo gettato i suoi effetti i suoi riflessi sconvolgendo san paolo scrive la creazione stessa attende la rivelazione dei figli di dio è stata sottomessa la caducità non per suo volere ma per volere di colui che ha sottomessa e che cosa sarebbe questo destino quindi dice l'uomo è stato creato in uno stato felice con destino e doni superiori alla natura umana numero 68 c'è l'approfondimento del destino l'uomo quale destino ebbe da dio l'uomo ebbe da dio l'altissimo destino di vedere e godere eternamente di lui bene infinito e poiché questo è del tutto superiore alla capacità della natura egli ebbe insieme per raggiungerlo una potenza soprannaturale che si chiama grazia questo era vero per adamo amici miei e questo è vero per noi un altro punto proprio fondamentalissimo noi non siamo stati creati per la terra ma per il cielo noi qui siamo di passaggio non solo siamo di passaggio un passaggio certamente che noi affrontiamo con con gioia con amore con entusiasmo ma in che senso nel senso che qui stiamo cercando di fare del nostro meglio in opere sante perché per dare gloria al signore per contribuire alla salvezza di più anime possibile per crescere in grazia e per crescere in gloria ma tutta la vita di un cristiano punta dritto verso il paradiso verso il fine per cui siamo stati creati che è l'unica cosa che conta è l'unica cosa importante se si fallisce questo fine è la fine donatemi il gioco di parole se non si raggiunge questo obiettivo è la fine e questo deve essere ciò che anima tutto noi siamo in tempi cioè il mondo in cui viviamo e gli eventi di questi ultimi giorni l'ho detto infinite volte lo ribadiscono lo testimoniano dove hanno praticamente persuaso la gente che noi siamo fatti per la terra quindi devi cercare di passarlo al meglio possibile qui cercare di godertelo il più possibile di avere tutti i comfort tutti gli agiti tutte le cose belle la salute perché la vita è qui e con la morte poi o non ci sta niente oppure ecco questa va un pochino più più di moda vedremo che insomma non è esattamente così vanno tutti in paradiso quindi quello che sta scritto nel Catechismo di San Pio X sono toccate stupidaggini perché se nel Catechismo di San Pio X c'è scritto che vedere e godere eternamente di lui è una cosa del tutto superiore alla capacità della natura tanto è vero che ci vuole una potenza soprannaturale per raggiungere lo che si chiama grazia e anche qui cioè se uno dovesse chiedere a un cristiano un cattolico ma qual è la cosa più importante per te? vivere custodire la grazia e crescere in grazia punto e basta ma senza neanche cioè senza neanche questa risposta bisogna proprio darla di getto senza neanche pensare a un mezzo istante subito pensiamo oggi quanto siamo lontani da queste cose qui no? gente che sta anni senza confessarsi bambini che vengono portati al fonte battesimale a 7, 8, 9, 10 mesi un anno due anni tre anni quattro anni ve lo dico io perché ho battezzato io bambini di 3, 4 anni ahimè cioè ahimè nel senso battezzare è sempre una cosa bella ma a 3, 4 anni insomma non è certamente il massimo dell'auspicio no? ma da dove vengono queste cose? dicevo nell'omelia che ho fatto oggi oggi si vedono sempre di più non è una novità ma bambini che arrivano a 6, 7 anni e non sanno fare neanche il segno della croce vanno a chiedere il battesimo nella stragrande maggioranza dei casi perché questo succede oggi veramente se uno non ci avesse grande grande forza interiore grande fede in Dio a fare il parroco cioè i parroci dovrebbero cadere tutti quanti in depressione tutti chi viene a chiedere il battesimo conviventi sposati al comune divorziati e quando tu insomma con tutta la delicatezza possibile ma sposato al comune dice ma lo sai che questa è una cosa che non funziona no? cioè perché sei sposato al comune? cioè che l'ha istituito a fare il nostro signore Gesù Cristo nel sacramento? eh sì va bene ma poi quando ci avremo tempo perché sai abbiamo fatto una cosa fatta intanto facciamo il comune e poi e poi si vedrà cioè io ho sentito delle delle storie capito? no andremo a sposarsi in chiesa quando i nostri figli cominceranno a essere un pochino grandi celli e ci possono portare gli anelli ho sentito quello che è mio queste cose qui eh poi vi spiego e dico guarda che questa cosa qui almeno quando è capitato a me te la scordi proprio che tuo figlio ti porta l'anello insomma no? perché non è certamente una cosa anche se nel nostro clima adesso super super emotivo capito? che ci stanno le cose smielate capito? o le cose smielate o le cose un po' da film americano no? che bello i bambini che portano l'anello ai genitori facciamo pure l'applauso poi no? così come battezzare i figli durante il matrimonio religioso della 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 coppia grazie a Dio qualche vescovo anche da queste parti negli anni passati l'ha proprio proibito ma non è cioè perché l'ha proibito? ma quale messaggio passa se tu fai una cosa del genere passa il fatto che questa è una cosa normale cioè che è normale che tu fai un figlio prima del matrimonio e che facciamo tutto insieme un matrimonio che battezzi pure il figlio cioè il fatto che adesso queste cose siano molto diffuse non toglie il dovere grave da parte della chiesa per quanto può perché non è che poi può andare a tirar il collo alla gente ma di dare un segno di dire guarda che cioè i sacramenti non si negano a un bambino poverino non c'è nessuna colpa di quello che hai combinato tu ma questa cosa non va bene non dovrebbe essere fatta e cerca di di rifletterci ma capite c'è proprio il lo zero quasi assoluto no? quindi abbiamo questa potenza naturale che si chiama grazia Adamo ce l'aveva in larga abbondanza 69 oltre alla grazia che altro aveva dato Dio all'uomo? oltre alla grazia Dio aveva dato all'uomo l'esenzione dalle debolezze e misere della vita e dalla necessità di morire purché non avesse peccato come purtroppo fece Adamo il capo dell'umanità gustando del frutto proibito o anche qui per noi che siamo fedeli cristiani cattolici io pongo questo quesito chi di voi che sta ascoltando questo questa diciamo chiamiamo lezione di catechismo lezione non mi piace per niente questo incontro sul catechismo di San Pio X chi di voi ma crede senza nessun dubbio che se Adamo non avesse peccato non saremmo morti la morte viene dal peccato San Paolo lo scrive a caratteri grossi così il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge ma capite cosa significa credere una cosa di questo genere se con il peccato direttamente dal peccato e non da altri fattori è venuta la morte ma sarà una cosa seria e una cosa grave questo peccato da cui guardarsi come dalla peste bubonica in questi ultimi due anni che cosa si è visto che la gente ha fatto follie caricati anche da disposizioni in alcuni posti esagerate insomma da parte dell'autorità per che cosa per sfuggire ad un agente patogeno capace di portarti in alcuni rari casi alla morte infatti abbiamo fatto il finimondo per questo il finimondo qualcuno di voi ha visto altrettanto finimondo per evitare di intossicarsi con gli agenti patogeni che producono la morte dell'anima che adesso e quindi quando saremo morti la morte eterna punto interrogativo io no io non ho visto altrettanta zelo altrettanto altrettanto energia dico non voglio dire non voglio se uno vuole fare questo per difendersi dalla gente patogeno se gli piace si accomodi pure no ma ci sta altrettanto zelo perché dico questo perché se non c'è altrettanto zelo se uno vuole leggere come doveroso i comportamenti senza giudicare le persone ma è chiaro che la gente non ci crede più che il primo problema è il peccato il problema non è che noi moriamo il problema è come moriamo perché se muori in stato di peccato mortale tu te ne vai dritto all'inferno senza esserti pentiti dritto all'inferno ma questi in quanti ci credono ci credi in quanti credono che l'uomo quando compare sulla terra sta in una connessione perfettissima esente dalle debolezze e dalle miserie del catechismo esampio decimo la fa semplice in protologia ci sono dei termini un pochino aulici per descrivere questo stato di giustizia originale quindi semplice le debolezze e le miserie tutte quelle che tu vedi ecco e poi numero 70 che peccato fu quello di Adamo ecco qui vedete come il catechismo si attiene a quello che emerge con certezza dal racconto simbolico di un fatto realmente accaduto ma espresso in termini simbolico alle corici all'inizio dell'umanità dice che peccato fu quello di Adamo il peccato di Adamo fu un peccato grave di superbia la tentazione del diavolo non morirete affatto ma diventerete come Dio conoscendo il bene e il male e di disobbedienza perché l'uomo ha fatto una cosa che gli era stata proibita esplicitamente voi sapete che il peccato in senso stretto il peccato si il peccato lo spiega San Paolo è trasgressione della legge è stata ammessa oggi avrà ascoltato le letture anche la mia omelia si chiama ecco così la necessità di ascoltare di osservare la legge di Dio proprio sia nel Deuteronomio che nel Vangelo Gesù ribadisce io sono venuto a confermare la legge antica è guai a chi si smuove anche di un millimetro da questa un trattino uno iota cioè qui bisogna conoscere l'ebraico per capire un trattino uno iota il trattino è il makef e l'oyota è l'oyod che è la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico quindi il makef è un trattino di congiunzione tra due parole ebraiche che sono una guzza agli occhi manco si vede per quanto è piccolino ecco quindi Gesù è molto molto chiaro si ha peccato quando si ha una legge esplicita chiara il termine ebraico è hukka proprio per dire una norma specifica questo non si fa e quest'altro si deve fare ecco sicuramente il peccato originale è consistito in una trasgressione una disobbedienza cioè loro sapevano quello che non dovevano fare e l'hanno fatto prima la donna e poi l'uomo questo è certo superbia e disobbedienza a Dio che qui oggi con tutte le grandi disobbedienze la disobbedienza ricordiamo sempre che la disobbedienza è disobbedienza a Dio a Dio si deve sempre ubbidire e fate attenzione che molte volte ahimè specialmente di questi tempi attraverso la manipolazione della santa virtù dell'obbedienza alle legittime autorità si fa passare la disobbedienza a Dio cioè l'autorità come dire si vorrebbe in qualche modo cioè surrettiziamente come dire non in maniera frontale esplicita chiara e diretta ma attraverso una serie di cose può succedere che noi obbediamo a Dio sempre sempre e quando la nostra coscienza si turba per qualcosa faccia un passo indietro e conti fino a dieci ricordiamo sempre il monito di San Pietro bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini noi siamo sottomessi per amore di Gesù dice San Paolo a tutte le autorità tutte legittimamente costituite religiose e civili tutte mai però fino al punto di lasciare che un ordine discutibile dell'autorità vada a intaccare quello che profondamente nel cuore io percepisco come essere volontà di Dio in quel caso bisogna fare attenzione sempre attenzione sempre discernimento poi può darsi che non si tratti di un problema di coscienza ma del fatto che uno è come dire è ribelle non gli vado obbedire in quel caso devo obbedire perché sta peccando se non obbedisce ma il discernimento bisogna farlo perché attraverso queste cose cioè adesso questi sono esempi evidentemente spropositati ma tutti quanti sappiamo che a Norimberga quando andarono i gerarchi nazisti sotto processo dice che peccati abbiamo fatto noi quando il Führer ci diceva di fare quello che dovevamo fare noi abbiamo obbedito quelli che hanno fatto la strage delle fosse artiatine e il Führer ci ha detto che avevano fatto l'astrellamento avevano fatto l'attentato lì a Via non mi ricordo come si chiama quanti ne erano morti erano morti 40 nazisti 46 nazisti 23 nazisti non mi ricordo il numero bene per ogni nazista morto 10 ammazzati italiani abbiamo preso le pistole e abbiamo sparato l'ordine c'è un ordine questi sono esempi evidentemente macroscopici no? la disobbedienza del peccato origine fu una disobbedienza a Dio il costitutivo formale del peccato è il costitutivo formale secondo Sant'Agostino è la disobbedienza a Dio la trasgressione di un precetto divino non di una legge umana divino significa positivamente formulato da Dio o radicato nella legge naturale tutte quante le autorità umane che emanano leggi umane sono legittimate a farlo e devono essere obbedite nella misura in cui tutto quello che dispongono o consentono sia conforme alla legge divina positiva e alla legge divina naturale quando da queste si discostino calma chiusa parentesi però questo capite che ci sono delle situazioni insomma che anche a livello pastorale esistenziale devono essere continuamente alimentate appunto dalla sana dottrina cattolica 71 quali danni cagionò il peccato di Adamo il peccato di Adamo spogliò lui e tutti gli uomini della grazia di ogni altro dono soprannaturale rendendoli 1 soggetti al peccato 2 al demonio 3 alla morte 4 all'ignoranza 5 a legative inclinazioni 6 ad ogni altra miseria e 7 escludendoli dal paradiso bastano guardate anche qui la fa in termini semplici arriva la morte arrivano le malattie arriva la concupiscenza l'indebolimento delle facoltà naturali il disordine nei rapporti tra uomo e donna il disordine nei rapporti co-creato le gravidanze nel parto per la donna il lavoro col surio della fronte per l'uomo quindi spogliati della grazia e di ogni altro dono soprannaturale sono questi i doni soprannaturali quindi l'immortalità l'impassibilità dalle sofferenze l'immunità dalle malattie l'immunità dalla concupiscenza quindi le passioni che obbediscono siamo soggetti al peccato c'è una schiavitù del peccato lo dice San Paolo chiaramente la schiavitù del peccato non significa che noi non siamo liberi di fare il bene e il male quindi che abbiamo perso la libertà ma dopo il peccato abbiamo questa cosa espressa in termini drammatici sempre dall'apostolo quando dice faccio il bene non faccio il bene che voglio faccio il male che non voglio che dopo il peccato la nostra inclinazione naturale non è più al bene come nello stato di natura integra ma è al male tutti noi facciamo esperienza se tu non ti educhi non ti domini non assecondi gli impulsi della grazia e che vuol dire 99 volte su 100 rinnegare se stesso tu tendi verso il male ecco perché Gesù dice chi vuole venire dietro di me rinneghi se stesso perché perché se tu assecondi te stesso con le tue inclinazioni come te li ritrovi adesso tu ti allontani da Dio soggetti al demonio in suo potere anche qui il demonio non può nulla contro la libera volontà dell'uomo non ti può costringere a fare niente contro la tua volontà però dire che si è soggetti a lui vuol dire che purtroppo ha un potere non indifferente potere che se non avessimo peccato in Adamo e personalmente non avrebbe il diavolo ha tentato anche Gesù ha tentato anche la Madonna ma come è secondo te la posizione diciamo così del diavolo nei confronti di un'anima pura quindi in cui non c'è la macchia del peccato in confronto con una che pura non è c'è un abisso c'è te lo dico io c'è un abisso perché nel primo caso il diavolo sta fuori e quindi deve cioè deve inventarsi qualche cosa per cercare di farsi una breccia ma dentro una fortezza che di per sé è inviolata per venire a far fuori noi ci mette niente perché noi siamo già fortezze violate non abbiamo le mura siamo esposti a poi soggetti alla morte soggetti alla morte che uno può procrastinare quanto vuole con i per carità la medicina deve progredire che si aumenti la vita che si combattano le malattie sono tutte cose non buone eccellenti buonissime perfette però presto o tardi la morte arriva ecco perché la morte non può e non deve essere considerato il male assoluto è male è una cosa che Dio di per sé non vuole è una cosa che non avrebbe dovuto nemmeno comparire nella vita di noi esseri umani però però non è il male più grande che esista non lo è perché per quanto la possiamo rimandare arriverà non c'è speranza all'ignoranza noi abbiamo bisogno di essere formati e informati non dai mezzi di informazione di oggi dobbiamo essere formati e informati chi di voi sta ascoltando queste cose vanno bene anche molte altre cose fatte da tanti miei confratelli molto più belle delle mie non fa niente d'accordo non si tratta stiamo lavorando tutti quanti per lo stesso per lo stesso fine ma formarsi e informarsi è fondamentale perché noi siamo ignoranti ignoranti nel senso etimologico non abbiamo più la scienza infusa l'abbiamo persa e quindi se non abbiamo la scienza infusa che cosa dobbiamo fare dobbiamo acquisirla la scienza dobbiamo procurarci la scienza acquisita e questa come si acquisisce con l'ascolto con lo studio con la lettura le cattive inclinazioni ogni altra miseria quante ne vogliamo ce ne stanno siamo in quaresima in quaresima si raffinano le armi per combattere quel combattimento spirituale perpetuo contro i nostri vizi contro le nostre passioni le nostre cattive inclinazioni che cesserà quando cesserà la vita umana questo è un periodo sapete che la quaresima è un po' come un tempo di forte esercitazione i militari fanno le esercitazioni prima di andare in guerra tu devi imparare a utilizzare un fucile sono più tanti i fucili comunque i mezzi di guerra prima impari poi fai le prove spari quindi vai a fare e poi vai in guerra ora siccome noi abbiamo la guerra perpetua perché fino a quando saremo in questa carne mortale noi siamo in guerra contro il diavolo e il suo esercito e dobbiamo acquisire attrezzature e armi necessarie e imparare a maneggiarle questo tempo è un tempo in cui si rispolverano le armi si tirano fuori i fucili bazooka cannoni f14 come si chiamano gli aerei insomma e si cominciano a sparare un pochino di colpi si si riaddestra un po' o si intensifica o si tirano fuori armi nuove o si imparano cose nuove io raccomando insomma questo va un po' fuori tema però siamo giunti quasi a metà della quarissima oggi sono esattamente tre settimane dalle ceneri cosa è cambiato nella tua vita l'ho già chiesto in qualche altra delle circostanze da martedì prima delle ceneri a oggi a cominciare da mercoledì delle ceneri perché se la nostra se noi stiamo vivendo esattamente come vivevamo fino a martedì prima delle ceneri ci stiamo facendo scorrere in vano un tempo questo tempo è lasciato alla nostra libertà non può scorrere come se niente fosse non può e non deve scorrere sotto tutti i punti di vista e infine escludendoli dal paradiso noi di per sé siamo esclusi dal paradiso sia terrestre che celeste quindi quello che dicono vanno tutti in antiparadiso tutto quanto da dimostrare perché di per sé l'uomo di per sé cioè lasciato nello stato come è ridotto l'uomo di per sé è fuori del paradiso ecco perché c'è bisogno di un salvatore ma se tutti quanti vanno vanno in paradiso ma Gesù da che cosa ti deve salvare che cosa vanno da fare sul pianeta terra e che ci sta a fare la chiesa e che ci stanno a fare i sacramenti bene 72 come si chiama il peccato a cui Adamo assoggettò gli uomini con la sua colpa il peccato a cui Adamo assoggettò gli uomini con la sua colpa si chiama originale perché commesso al principio dell'umanità e si trasmette con la natura agli uomini tutti nella loro origine si trasmette con la natura quindi concepito un essere umano immediatamente c'è la trasmissione del peccato d'origine la chiesa ha sempre insegnato questo qui e tra l'altro ha sempre insegnato espressamente che il momento di trasmissione proprio del peccato originale è il concepimento è il concepimento così come viene adesso il peccato mi ha concepito mia madre scrive il salmo 50 si legge nel salmo 50 ora 73 questo è un numero molto importante in che cosa consiste il peccato originale il peccato originale consiste nella privazione della grazia originale che secondo la disposizione di Dio dovremmo avere ma non abbiamo perché il capo dell'umanità con la sua disobbedienza ne privò se e noi tutti suoi discendenti la condizione che Adamo aveva capostipite dell'umanità sarebbe dovuta passare così come era in lui in quanto capostipite in tutti i suoi discendenti per cui se Adamo avesse fatto vita integra e così fosse passato dalla terra al cielo vedete il peccato originale non ne avremmo traccia e che sarebbe successo se avesse peccato un uomo qualche generazione dopo da quello che capiamo anche se fare discorsi teorici sul cosa sarebbe successo è sempre un po' un azzardo oltre che una cosa non sempre giovevole sarebbe successo che Pinco Pallino la quinta generazione dopo Adamo si impazzisce fa la sua caduta personale è la sua caduta personale che nasce con lui e muore con lui non coinvolge però in questo modo universale tutto il genere umano attenzione numero 74 come mai il peccato originale è volontario quindi colpa per noi allora il peccato originale è volontario quindi colpa per noi non nel senso che ne siamo responsabili personalmente ma ancora perché volontariamente lo commise Adamo quale capo quale capo dell'umanità contro il peccato originale attenzione che dice sempre la Chiesa attenzione su quest'altro punto che viene trasmesso ed inerisce un peccato trasmesso ma non commesso ma attenzione inerisce alla persona come se fosse proprio viene tolto con il battesimo quindi il battesimo è per il battesimo di un bambino è per la remissione del peccato originale ripeto è un peccato trasmesso ma non commesso però inerisce la persona come se l'avesse commessa lui è chiaro seconda parte del numero perciò Dio non punisce ma semplicemente non premia col paradiso chi abbia solo il peccato originale qui c'è tutta quanta la tematica che nel catechismo di San Pio X come vedremo c'è del limbo è chiaro che tu non puoi mandare all'inferno evidentemente un concepito che si ritrova a causa di questo principio dell'unità del genere umano quindi che il capostipide è infettato e quindi sono tutti infettati però io cioè la dannazione i tormenti l'essere soggetti alle angherie dei diavoli perché questo è l'inferno richiede una colpa personale quindi richiede una malizia della volontà inerente alla persona un concepito non può avere una cosa di questo genere però sono chiuse le porte del cielo e questa è un'altra stupidà il limbo purtroppo dico purtroppo perché spero che arrivi anche in futuro anche su questo un pontefice un concilio che interpreti autenticamente tra l'altro alcune affermazioni che ci sono già in alcuni concili celebrati nel passato e chiuda questa questione perché con la scusa che il limbo non è un dogma di fede o una verità di fede definita come il paradiso l'inferno il purgatorio che lo sono anche se ripeto in molti pensano che sia rimasto soltanto il paradiso perché il purgatorio che serve che tanto ha pagato tutto il nostro signore l'inferno chi lo sa se c'è o se non c'è ma tanto se c'è vuoto questo pensano in molti il limbo proprio è diventato oggetto di sberleffi addirittura io dico questo perché so quello che dico ahimè purtroppo quindi non lo dico come una supposizione lo dico perché mi constano ecco teologi che sberleffano addirittura la presunta esistenza del limbo quindi non soltanto la negano con argomentazioni tra l'altro discutibili ma la sberleffano ora se attenzione se il limbo non esiste e se il peccato originale non priva del paradiso un bambino che cosa succede che il battesimo dei bambini presto o tardi diventerà completamente inutile c'hanno ragione quelli che dicono ah e che lo battezi a fare un bambino e oggi questa è molto diffusa questa cosa in giro non tantissimo almeno in Italia ma c'è quando diventerà grande se vuole diventare cristiano e cattolico chiederà lui il battesimo si battezza e se no non si battezza non gli vada a imporre la religione tutti gli argomenti che circolano oggi e lo stesso motivo perché si deve per esempio battezzare un bambino ti porta un bambino una coppia di persone sposate al comune o conviventi o divorziate e risposate quindi ci sono alcuni che obiettano tu però battezi un bambino sulla fede dei genitori quale garanzia di trasmissione della fede puoi avere da questi quasi nessuno ve l'ho già detto ed è la verità cioè il ragazzino arriva a 6-7 anni che si fa manco il segno della croce allora che facciamo niente battesimo qualcuno afferma questo se la famiglia non è in condizioni di dare di garantire un minimo di educazione alla fede niente battesimo allora se fosse vero quello che dicono questi dottoroni potresti pure farla una cosa del genere tanto se il ragazzino muore va in paradiso no? secondo loro va in paradiso perché se limbo non esiste e se Dio non non fa questa cosa quindi non premia col paradiso chi ha il peccato originale quindi non si va in paradiso con il peccato originale e che problema c'è? un bambino che cosa vuole che fa? quali colpe prove ha per cui rischia la dannazione? nessuna no? quindi andiamo più avanti però almeno a questo non ci siamo ancora arrivati non c'è nessun come dire nessun concino nessun papa nessun vescovo che va dicendo che esplicitamente non battezziamo più i bambini c'è qualche pastoralista che lo dice o qualche o qualche ministro ma in maniera isolata però dato che poi bisogna essere anche un pochino logici no? dice va bene viva Dio battezziamoli sti bambini ma se questo non è vero ma che lo battezza fa un bambino? cosa lo battezza a fare? soprattutto alla luce del fatto che molte coppie che non si possono neanche chiamare famiglie che ci sono adesso in giro non garantiscono nulla riguardo la trasmissione della fede e la vita cristiana del bambino la verità è che la chiesa sempre battezzata anzi addirittura voi sapete che per battezzare un bambino non è nemmeno necessario che i genitori siano cattolici si può tranquillamente battezzare un figlio di due musulmani per esempio o di due buddisti purché loro accettano accettino di far battezzare il figlio e il padrino deve essere credente pensate che nell'antico rito del battesimo che io in passato quando ancora si poteva in qualche circostanza ho avuto modo di amministrare nel nuovo rito del battesimo per esempio parlano i genitori col padrino e la madrina nel battesimo antico che è andato avanti per centinaia di anni i genitori durante il battesimo sapete che fanno guardano guardano perché chi parla è sempre e solo il padrino dietro questa prassi c'era vedete c'era la fede della chiesa cioè il battesimo è un sacramento indispensabile per la salvezza anche per un neonato non si può amministrare senza il consenso dei genitori quindi o contro la volontà dei genitori ma basta che loro lo vogliano che siano due musulmani e ci pensa il padrino poi a trasmettergli la fede a garantire che faccia il catechismo e che tanto battezziamolo perché così se muore va in paradiso per direttissima questo è quello che la chiesa ha sempre pensato questa è un'altra delle tante cose che in questi ultimi anni è stata messa in discussione anche a livello autorevole uscì anche un documento della commissione teologica internazionale che pur non avendo valore magisteriale perché quei documenti non hanno valore di magistero della chiesa però ha pesantemente condizionato il dibattito sul funerale da fare a limbo e molti il funerale gliel'hanno già fatto a limbo cioè ormai è degradato a leggenda sorta appunto nel medioevo per giustificare la prassi del battesimo ai bambini che però si conserva ancora per quale motivo cioè perché dopo uno ripeto deve essere conseguenziale non voglio fare l'avvocato del diavolo ma se tu neghi questa cosa mi devi spiegare un motivo per cui tu devi battezzare un bambino allora stesso discorso che stiamo facendo sul ciclo di catesi sul peccato originale il sacramento del matrimonio ma perché tutta quanta sta gente si sposa al comune si sposa o convive perché per questa gente il sesto comandamento non commette ratti impurso non esiste più non esiste più se non si coglie e non si ricorda bene il fatto che il discriminante cioè il sacramento del matrimonio l'effetto come dire proprio principale che produce è che se tu mi si perdoni stai con la tua promessa sposa il giorno prima del matrimonio commetti un peccato gravissimo che si chiama fornicazione che come tutti i peccati di sesto ti porta dritto dritto all'inferno se non ti penti di questo tu fai gli stessi atti dopo il matrimonio e non hai fatto nessuna fornicazione niente non ti diventare a confessare come mai ma è chiaro che se un ragazzotto una ragazzotta cominciano a fare avere vita sessuale esplicita e attiva a 12-13 anni e con una sorella da 25 anni si sarà già con quanta gente che sono andati qual è il senso del sacramento mettiamoci non sto giustificando sto cercando di far ragionare per cui se non se la chiesa abdica al suo compito di giudicare giudicare è giudicare il mondo da un punto di vista oggettivo non le persone ma il mondo si e di continuare a denunciare il peccato del mondo e a chiamarlo per nome qui è proprio la fine ci sono una montagna di anime che si perdono vediamo l'ultimo numero del catechismo e poi concludiamo questa sezione l'uomo a causa del peccato originale numero 75 doveva rimanere escluso per sempre dal paradiso la risposta è sì l'uomo a causa del peccato originale doveva rimanere escluso per sempre dal paradiso se Dio per salvarlo non avesse promesso e mandato dal cielo il proprio figliolo cioè Gesù Cristo ora siamo alla fine di marzo il prossimo incontro del catechismo di San Piovesimo sarà alla fine d'aprile quando Pasqua l'abbiamo già fatta ma ricordiamoci che dottrina della Chiesa è che il sabato santo nostro Signore Gesù Cristo è sceso negli inferi cioè nel limbo perché prima della morte di Cristo questo sia ben chiaro in paradiso non c'era nessun essere umano nessuno manco San Giuseppe manco Mosè perché quando sono apparsi Mosè ed Elia sono apparsi Mosè ed Elia sul monte Tambor Mosè è apparso dalla dimora dei morti è morto da giusto ma non stava in paradiso Elia non si sa manco che fine ha fatto perché è stato rapito su un carro di fuoco e insieme a Enoco sono i due personaggi che non si sa che fine hanno fatto ma in paradiso non c'era entrato nessuno manco San Giuseppe manco San Giovanni Battista non ci stavano in paradiso fino a quando non è stato pagato il prezzo della redenzione e Gesù la passione e la morte l'ha affrontata anzitutto per salvarci dal peccato originale e secondariamente per prendere su di sé tutti i peccati da caterva che derivano come frutti marci da quell'unica radice corrotta che è il peccato originale quindi fine del paradiso quindi perché se non ci va in paradiso un bambino innocente col peccato originale non ci va nemmeno un adulto santo deve essere tolta quella macchia deve essere tolta quel peccato devi essere battezzato o quantomeno ci deve essere in modo con cui arrivano su di te i frutti della retenzione ecco vedete come la sana dottrina cattolica San Pio X aveva questo questo grande dono è chiarissima queste cose nel 2022 conservano esattamente integro e intanto lo stesso identico valore che hanno sempre avuto e nel 2022 se ci sarà o nel 4022 sarà la stessa cosa chi ha perso queste cose o non ci crede più o non ci crede sul serio è fuori della comunione con la chiesa di Cristo l'unica chiesa di Cristo che è la Santa Madre e chiesa cattolica bene detto questo amici cari sperando che tutto questo possa aver servito al bene di qualche anima ci diamo su questa sede appuntamento al prossimo ultimo meglio quarto mercoledì del mese la benedizione a tutti che Dio vi benedica e che la Madonna sempre vi protegga aspetta la prima che è il mondo e che è stato a chi è stato